Non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. Il pubblico si è fatto sentire già nel pre-partita e l'atmosfera è caldissima. Speriamo che la gara sia all'altezza di questo spettacolo. Nel frattempo la gara è iniziata. Bella apertura. Passaggio sulla destra. Non può sbagliare. Baltini! Conclusione sul fondo. Aveva voglia di tirare a tutti i costi. Si vedeva, ma temo che si sia fatto prendere troppo dalla fretta. Berardi, buona occasione. Bavan a sinistra con il passaggio. Che grande avvio. Ci stanno mettendo subito intensità e voglia di fare. Tentativo di allungare il gioco. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione. Il risultato è stata una palla persa. Vai Rami. Lanciato sulla corsia di sinistra. La mette in mezzo. E non fa ripartire subito gli avversari. Berardi. Vede lo scatto e cerca la profondità. Riceve palla da dietro. C'è il lungo pallone in avanti. Berardi. Il Cittadella sta tenendo alte entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo ripressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Boloca. Ci mette il piede e conquista la sfera. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a metto, non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. Il pubblico si è fatto sentire già nel pre-partita e l'atmosfera è caldissima. Speriamo che la gara sia all'altezza di questo spettacolo. Nel frattempo la gara è iniziata. Bella apertura. Passaggio sulla destra. Non può sbagliare. Baltini. Conclusione sul fondo. Aveva voglia di tirare a tutti i costi, si vedeva, ma temo che si sia fatto prendere troppo dalla fretta. Berardi, buona occasione. Bavan. A sinistra con il passaggio. Che grande avvio. Ci stanno mettendo subito intensità e voglia di fare. Tentativo di allungare il gioco. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Vai Rami. Lanciato sulla corsia di sinistra. La mette in mezzo. E non fa ripartire subito gli avversari. Berardi. Vede lo scatto e cerca la profondità. Riceve palla da dietro. C'è il lungo pallone in avanti. Berardi. Il Cittadella sta tenendo alta entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo ripressano alti in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Boloca. Ci mette il piede e conquista la sfera. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a mette. Non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. Il pubblico si è fatto sentire già nel pre-partita e l'atmosfera è caldissima. Speriamo che la gara sia all'altezza di questo spettacolo. Nel frattempo la gara è iniziata. Bella apertura. Passaggio sulla destra. Non può sbagliare. Baltini! Conclusione sul fondo. Aveva voglia di tirare a tutti i costi. Si vedeva. Ma temo che si sia fatto prendere troppo dalla fretta. Berardi. Buona occasione. Papin. A sinistra con il passaggio. Che grande avvio. Ci stanno mettendo subito intensità e voglia di fare. Tentativo di allungare il gioco. Prova la verticalizzazione ma il tentativo non ha fortuna. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione. Il risultato è stata una palla persa. Vai Rami. Lanciato sulla corsia di sinistra. Lo mette in mezzo. E non fa ripartire subito gli avversari. Berardi. Vede lo scatto e cerca la profondità. Riceve palla da dietro. C'è il lungo pallone in avanti. Berardi. Il Cittadella sta tenendo alta entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo ripressano alti in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto. Bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile. Con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Boloca. Ci mette il piede e conquista la sfera. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a metterlo. Boloca. Ci mette il piede e conquista la sfera. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a metterlo. Boloca. Boloca. Ci mette il piede e conquista la sfera. C'è l'opportunità per il contropiede.